Sì, ma guarda il canale del Draghi Ti piace i tatuaggi? Sì Ti vuoi riempire? No Ti faresti mai il tatuaggio quello sulla sclera? No Su... Il seno? No Ce l'ho qua Dov'è? Qua dietro Sul culo? Sì Ma giù o su? Qua sopra? Cioè, posso anche farlo vedere se non mi banno Non è che è proprio qua No, no, vediamo Cioè, se non hai bannato No, non penso Ma mi posso alzare? Certo Ma dov'è che devo far vedere di là? Ecco Si vede? Ah, scusate che c'è scritto? Baby girl Ah, baby girl? Era sotto sé baby mama? Sì Però mi sono sempre chiamata così sul TikTok Quindi ho deciso di chiamarlo così Perché Pierstina che pezzo lì li ho fatti Ragazzi, che male Ah, e lì ancora? Li ho tolti Veramente? Sì Dava un fastidio? No, ma prendevano un sacco di infezioni Poi non si cicatrizzavano mai Comunque puoi anche togliere le cuffie, eh Tranquillo Oh Wow, com'è bello sentire adesso E... Basta scrivere furbo Mica, ma fatti della nota tu Perché vanno sta roba Ogni volta che... Cioè, scrivono furbo Arrivano anche uno qua Vediamo Ragazzi, furbo Ragazzi furbo Fai dei tatuaggi Ma li hai anche fatti vedere su TikTok Quindi comunque Quindi almeno che il proprietario di TikTok sia un furbastro Cioè, li fa vedere Li fa vedere Insomma Ma... Vabbè Ok Ci sta Anche io ho datato oggi Sì? Sì Tanti Perché Adesso tutti attorno al pube Quindi è troppo Freebooter2 Ti seguo Bomba comunque Grazie Del support